Come anche la vostra storia, così ricca e variegata, racconta la sempre giovane fantasia dello spirito. Giorgio Lapira, che è stato mio maestro a Firenze, diceva che i giovani sono come le rondini, capiscono che la primavera è alle porte. Anche voi, in un certo senso, siete le rondini suscitate dallo spirito e dovete mostrare con la vostra vita, col servizio a tutta la Chiesa, che la storia è già il luogo dove Cristo regna vittorioso. Ci sono troppe persone che dicono, ma dov'è Dio? Dov'è Gesù Cristo? Dio sta in cielo e ha abbandonato il destino di questa povera terra. No, la storia che noi stiamo vivendo, col nostro impegno, anche con i nostri limiti, è già il luogo dove Cristo regna vittorioso. Il vostro servire alla Chiesa consiste proprio nel restare fedeli al vostro essere segno. Grazie. Grazie a tutti.